Dalla teoria alla pratica, gli studenti ricevono la certificazione del marchio di qualità delle imprese simulate 2010. Vediamo di cosa si tratta nel servizio. Nella sala del Palazzo Mercantile a Bolzano si è tenuta la cerimonia di consegna della certificazione marchio di qualità delle imprese simulate 2010, promosso dal Ministero Austriaco per la Formazione, l'Economia e la Cultura e dal Centro Servizio Austriaco per le Imprese Simulate. In tutto 32 le imprese simulate che nel corso di quest'anno scolastico si sono sottoposte ad una valutazione esterna e 28 di queste, create da 11 diversi istituti superiori altoatesini di lingua tedesca e ladina, hanno superato la verifica. Ma cos'è un'impresa simulata? In sostanza è un modello di impresa molto simile ad una struttura reale realizzata in ambito scolastico per consentire agli studenti di sperimentare in maniera pratica quanto hanno appreso in forma teorica. Lo scopo principale del concorso infatti è quello di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro cosicché una volta diplomati i giovani potranno essere pronti per affrontare con serenità l'ingresso nell'ambiente lavorativo. Nel corso della cerimonia, aglietata dalla musica, gli studenti hanno presentato alle autorità i prodotti e i servizi delle loro imprese simulate che operano in diversi settori economici e sono state create nel corso dell'anno scolastico 2009-2010. La consegna dei certificati è stata effettuata dall'intendente scolastico in lingua tedesca Peter Holrigl.